Allora Giulio, sì sì sì, sentiamo i Genesis questa volta, che mi piacciono tanto, vai, vai, vai. Dunque, prima luna Evo 300 Hybrid, questo è il prima luna ibrido, quindi contrariamente a tutti gli altri prima luna, tradizionali, sia dalla serie Prologue che dalla serie Evo, che sono tutti rigorosamente valvolari dall'inizio alla fine, questo amplificatore è un amplificatore che coniuga le valvole allo stato solido. Velocemente vi dirò che non è una prima assoluta, perché i primi esperimenti con gli amplificatori ibridi risalgono alla fine degli anni 70, primi anni 80, con un prodotto che si chiamava, se non ricordo male, MOS Code, che era la crasi fra MOS, i dispositivi attivi, e Code Cascode, che è la configurazione delle valvole, promette il valvolare che cosa? Di coniugare il meglio delle valvole e del transistor, eliminando i difetti di ciascuno, e quindi sarebbe una gran bella cosa. Pur tuttavia, molti esperimenti fatti con gli ibridi sono stati, diciamo, soddisfacenti a metà. Noi siamo dei sostenitori dell'ibrido, già che il nostro Copeland CSA 100 è esattamente un ibrido, che ha una sezione preamplificatrice a valvole e una sezione finale a transistor. Esattamente. Però seguiteci che a breve diciamo qualche altra cosa. Subscribe, campanella, a tra poco mi raccomando. Ciao! Ma ti chiederò Giancarlo una cosa, tecnicamente. Ma perché non fare direttamente un amplificatore, magari integrato, di grande potenza, direttamente tutto a valvole? Beh, prima di tutto c'è una questione di costi e di ingombri. Avete fatto sicuramente caso che quegli amplificatori finali con 4, 6, 8 valvole finali sono enormi. Pesano. Pesano moltissimo. Le valvole finali vengono messe in modo da diminuire il più possibile l'impedenza interna della valvola e quindi vengono messe in parallelo, ma questo vuol dire aumentare tantissimo i costi e gli ingombri e non meno importante quanto scaldano, perché chi mi chiede ma io mi compro, dico guarda poi da maggio, giugno a settembre non puoi sentire la musica perché diventa un forno. Esattamente. E quindi la razza dell'ibrido è proprio anche questa, cioè proporre al pubblico le sonorità tipiche del valvolare ma evitando ingombri, costi, difficoltà di gestione perché poi le valvole vanno sostituite, cambiate, regolate. Quindi è una strada interessante. E rispetto a questo volevo sottolineare particolarmente una cosa perché qualcuno potrebbe dire ah però anche quello ha le valvole da cambiare, sì ma le valvole preamplificatrici hanno una vita estremamente più lunga di quella delle valvole di potenza, le valvole di potenza dipendentemente dal circuito possono anche durare due, tre mila ore, mille ore, dipende da come sono implementate, le valvole di segnale Durano tanto, tantissimo. Secondo me si possono anche non cambiare mai e praticamente è la stessa cosa. Avveniamo al nostro prodotto, dunque noterete, ma ve lo stiamo facendo vedere, che qui c'è scritto Floyd Design. Esatto. Allora due parole su questa cosa. Floyd Design è nell'ambito dell'ombrello sotto il quale opera Prima Luna che è la Duro Audio è la sezione dell'azienda che si occupa di amplificazioni a stato solido. Quindi qui abbiamo che la sezione finale, quella a stato solido, è stata realizzata, progettata da Floyd Design, mentre invece nella fattispecie da un signore che si chiama Jan De Groot che ha grande esperienza nella realizzazione di progetti a stato solido. La parte invece preamplificatrice interamente a valvole deriva dal modello di preamplificatore EVO 400 sul quale ha messo le mani un super esperto che si chiama Marcel Creuse che è di provenienza Goldman, quindi insomma è un signore che ha un signore. Ma perché sono sei valvole? Questo è interessante perché mentre la prima valvola fa da preamplificatrice le altre due valvole sono valvole buffer dello stadio finale e sono messe in parallelo e quindi è una configurazione un po' particolare rispetto al solito. All'interno dei circuiti a stato solido c'è una sezione JFET e una sezione MOSFET con i MOSFET della Hexicon, che invece i JFET sono della Linear System. Sì, allora Hexicon che avevamo già trovato all'interno del Tektro Vulcano, gli stessi se non mi ricordo male. E ho letto anche che sono impiegati in qualche prodotto di classe. Ah, è probabile. Comunque ricapitolando, i JFET della Linear System sono la sezione driver, invece la sezione di uscita è affidata appunto a questi Hexicon che sono MOSFET. Due coppie a canale e poi vedremo nello sventramento che abbiamo fatto prima perché ci interessava particolarmente vederlo dentro, la costruzione è fatta in modo veramente esemplare, i JFET sono accoppiati insieme in delle gabbiette per evitare che la deriva termica di uno o dell'altro li possa influenzare e ci sono componenti bellissimi, quello che mi ha colpito di più particolarmente ma lo dirò anche nello sventramento, sono dei condensatori a mica argentata della Rubicon che sono normalmente ad appannaggio di prodotti high-end. Anche condensatori duro di grandissima dimensione con dei ofori enormi, questa è una sezione di preamplificazione. No, quindi dal punto di vista costruttivo è una macchina realizzata senza badare a spese e secondo me con degli intelligenti risparmi, dove? Questa macchina non ha la sezione DAC ad esempio, giustamente, credo, sono soldi che sono stati risparmiati per potersi permettere di offrire una componentistica e un progetto di elevato livello. Come tutti prima luna, al di sotto, lo stiamo vedendo adesso, c'è una sorta di cassettino per la scheda di preamplificazione fono. In questa maniera la macchina può montare un fono a bordo. L'amplificatore è un amplificatore che lavora in classe AB, è dichiarato per erogare 100 W su 8 Ohm e circa 160 su 4 Ohm. Siccome le alette scaldano particolarmente anche senza segnale, ho la netta sensazione che la polarizzazione sia molto alta. Ancora alcune cose da segnalare che ci hanno incuriosito. C'è una uscita sub che può essere, comodo, modificata da stereo a mono mediante un interruttore che si trova sul freddo. Quindi qualora uno utilizzasse un singolo sub o due sub, può intervenire in questa modo. Evidentemente l'uscita è un'uscita a banda intera, quindi ci si affida poi per i tagli e per le corregolazioni, come giusto che sia, a quello che sta a bordo del sub. Ma non ci perdiamo in chiacchiere. Uno, due, tre, quattro, cinque ingressi più un bypass home theater e l'uscita cuffia 6,3, attivabile da qua, da questo bottone che si vede qui sul lato destro dove c'è scritto loudspeaker o headphone. E questa è una prerogativa di prima luna. Tutti i prima luna hanno questo interruttore. Il che significa che non c'è un circuitino buttato lì tanto per, ma si fa affidamento alla stessa sezione di amplificazione dell'amplificatore che viene poi opportunamente scalata, diciamo, per poter pilotare una cuffia. L'amplificatore va a regime effettivamente dopo pochissimo tempo. Diciamo che in una decina di minuti arriva a regime e si stabilizza e questa è una grossa comodità, ovviamente rispetto ad altri valvolari che magari richiedono una, due ore per arrivare a suonare come devono. Non ci sono ingressi bilanciati, è tutto rigorosamente sbilanciato, come normale che sia. C'è un bellissimo telecomando, grande e grosso, in metallo, con quei due intelligentissimi O-ring che stanno messi qui, uno davanti e uno di dietro, che consentono di appoggiarlo senza graffiare. Attenzione ai tuoi appunti, ho premuto qualcosa di strano, ma volevo sottolineare particolarmente che non è il classico telecomandino cinese che tutti comprano, questo è fatto apposta e da, non so se si sente, lo faccio sentire così, questi tasti che sono tutti in alluminio, tutti in alluminio, è veramente un bello oggettino. Dal punto di vista estetico, lo state vedendo adesso, ma lo avrete visto anche nelle nostre immagini un po' più larghe, è a tutti gli effetti un prima luna, quindi è lo stesso identico design degli alti prima luna, con la loro gabbia proteggivalvole smussata, piuttosto bella, il frontale con i due grandi elementi circolari della regolazione del volume e della regolazione dell'ingresso, quindi manopole, perché un architetto li chiama elementi circolari, ma non lo chiamo, manopole, la finitura esterna può essere grigio satinato o nero, l'oggetto è decisamente pesante, perché pesa una trentina di chiri, ma attenzione, attenzione, questo si può inserire all'interno di un mobile, perché è un amplificatore a transistor a tutti gli effetti che non scotta come scotta un amplificatore che ha le valvole finali che raggiungono temperature molto più alte. Anche se io non lo farei mai e poi mai, perché la verniciatura, la finitura superficiale di questa parte posteriore è veramente bella, veramente ben fatta, quindi secondo me nasconderlo dentro un mobile sarebbe un po' un delitto, mia opinione personale. Possiamo andare allo sventramento o a i rimproveri? Che sarà molto interessante. Ok, allora tra poco, ciao. Ciao. Giulio, questo amplificatore è spettacolare, veramente bello. Sì, difficilmente mi era capitato di vedere un interno così ben organizzato e che riuscisse perfettamente a coniugare sia le esigenze dello stato solido che le esigenze delle valvole, tanto che lo sventramento lo faremo separato, questa parte parleremo solamente dello stato solido, poi lo richiudiamo, lo giriamo e vediamo la parte delle valvole. Tu sarai d'accordo? Assolutamente sì. Benissimo, allora cominciamo col trasformatore. Siccome per certo questa ha una parte che alimenta la sezione di preamplificazione e una parte che alimenta i finali, noi qui dentro non sappiamo se c'è un trasformatore solo multi-avvolgimento o ce n'è più di uno e non togliamo sicuramente il coperchio per certo. Vi diamo però per assodato che questi sono gli avvolgimenti del trasformatore, sicuramente toroidale, che alimentano le sezioni finali. potete ben vedere come oltre a una grossa quantità di condensatore di filtro della Kemet, 2, 4, 6 per ogni canale, ci sono dei sistemi di stabilizzazione, eccoli qua, completamente separati, quindi c'è la stabilizzazione per la parte pre-driver e solamente il filtraggio per la parte di potenza, ma Giulio non so se tu riesci a far vedere quanto è spesso, aspetta che tolgo pure questa griglietta, ecco qua, quanto è spesso il circuito stampato. Questo circuito stampato è così spesso perché qui dentro ci sono delle piste con uno spessore di rame molto più alto rispetto al normale che servono proprio per veicolare la tensione di alimentazione. Unico piccolo appunto che mi viene da fare, che ha fatto Giulio giustamente, è come si fa a cambiare i fusibili. Guardate questo, magari è un po' avventurosa, non la può fare credo un utente finale, guardiamo la sezione di potenza, quello che mi ha colpito immediatamente è questo qui, questo è sicuramente, sono due transistor, due semiconduttori che sono messi vicini proprio per fare in modo che la loro deriva termica sia uguale e che quindi si riscaldino e si raffreddino insieme e che quindi abbiano esattamente lo stesso guadagno. E questa è una cosa molto rara da trovare solamente in sistemi di altissimo livello. I miei tanto amati Vima Rossi ce ne sono moltissimi, questi sono degli splendidi condensatori che fanno anche parte della mia collezione personale, sono in mica argentata addirittura, quindi sono rarissimi da trovare. Vediamo i transistor che sono della Hexicon, che sono dei Mosfet. Sono quattro perché vediamo uno, due e poi tre e quattro stanno lì, non lo so se riesce a inquadrarlo. Forse no. Forse no, non importa. Qualità delle resistenze e di tutti gli altri condensatori eccellente. Resistenze Tachman. Resistenze Tachman in una costruzione davvero eccellente. Dal punto di vista dell'industrializzazione vale la pena notare che questi telai dissipatori sono fissati con delle viti che sto inquadrando al telaio di base, il che dal punto di vista dell'eventuale servizio sulla macchina e manutenzione rende la asportazione particolarmente semplice. I dissipatori sono decisamente generosi, come potete vedere che stiamo inquadrando in questo momento. Insomma, sono dei dissipatori piuttosto grandi, anche perché in esercizio la macchina raggiunge una discreta temperatura. Oh, adesso rimettiamo i coperchi e ci vediamo fra un attimo per la parte di sotto, per la side B. Per la side B. Ok, ciao. Allora Giulio, vieni qui, vieni. Questo è il sistema Offset Killer, di cui tu sai qualcosa in più? Sì, se non ricordo male, questo è stato uno dei primi prodotti che l'azienda madre di Primaluna, che se non ricordo male si chiama Durob, ha commercializzato molti anni fa come retrofit per apparecchi di terze parti. Adesso io non so se queste due bobine siano parte del sistema Offset Killer o no, ma suppongo di sì, perché come vedete qui entra la 220, linea e neutro. Queste sono le uscite che vanno al grosso trasformatore che abbiamo visto prima e qui ci sono probabilmente ingresso e uscita delle bobine di questo sistema. Può essere, non può essere, non ci metterei la mano sul fuoco. Ingressi, questi sono i relais che commutano gli ingressi. Sì. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei relais. Ok, questo poi c'è anche uno stadiofono che però in questo caso non è inserito e che va messo opzionalmente. In una sorta di scatolotto esterno che sta attaccato al fondello dell'apparecchio e in questo momento non lo vediamo perché il fondello è stato rimosso. Esatto. Poi, bind in post di uscita, eccoli qua che sono ai due estremi con i relais di protezione. Sì. E poi andiamo verso la sezione di preamplificazione. Devo dire che vedo una quantità di condensatori Duroc di altissimo livello come difficilmente mi era capitato di vedere se non in prodotti di altissimo livello. ecco, uno, due, questi qui, questi qui, questi, questi, qua, guardate, sono qui, ce ne sono ovunque. Quindi dal punto di vista della qualità della componentistica utilizzata sinceramente tanto di cappello perché difficilmente in un prodotto da 7.000 euro circa c'era capitato di vedere tanto. E' interessante notare come la sezione di preamplificazione totalmente a valvole sia come la tradizione prima luna totalmente in aria, cioè non faccia ricorso a PCB a meno di situazioni diciamo particolari, quindi quello che stiamo inquadrando adesso vedete è tutto montato in aria. Mentre invece la parte che abbiamo visto prima, cioè quindi quella sottostante della sezione di potenza, quella è più convenzionalmente montata su una grossa PCB. Sì, anche se poi tutta questa parte della parte di preamplificazione è in aria, quella che corrisponde con i tubi e poi c'è anche tutta una parte che è quella del circuito vero e proprio che invece è sistemata su questa, su questa PCB dove possiamo notare anche dei sistemi di filtraggio separati per canale sinistro e canale destro molto sofisticati. Tra l'altro qui possiamo chiaramente vedere come la costruzione sia completamente dual mono. Sì, sì, sì. Perché qua è come se potessimo tracciare una linea e vedere... Una mezzeria e una parte di qua e una parte di là. Esattamente. Potenziometro del volume. Eccolo qua, con i relay del muting. Sì. Che è il classico potenziometro Alps da 100 kg serie blu. Sì, motorizzato. E basta Giulio, uscita cuffia che ti piace tanto, selezione degli ingressi. Oh, selezione degli ingressi che può avvenire anche da telecomando. Esattamente, che può avvenire anche con il telecomando. Ok. Ok, bellissimo. Comunque costruzione molto ben fatta. Bellissimo, sì. Poi è solida, è fatta bene, è fatta in modo affidabile. Quindi insomma un decisamente buon livello di industrializzazione. Eccellente. Oh, come andrà l'ascolto lo vediamo tra poco. Continuiamo a sentire Genesis. E controlliamo se i nostri microfoni sono attivi. Ah! Perché mi dici questo? Potrebbe non esserlo? E' attivissimo. E' attivissimo. Ma guarda un po'. Allora Giulio, partiamo da lì. Sì. Comincia tu, perché sennò sono sempre io che è sdang. Vai. Allora, io mi sono fatto questa idea ascoltando a lungo questo Evo 300 Hybrid di Prima Luna. Sì. Che il nostro amico Van den Dungen, il titolare di Prima Luna, ha fatto un'operazione molto intelligente. Voglio dire con questo che questo amplificatore, io non credo, se non in minima parte, che indurrà gli attuali proprietari di amplificatori Prima Luna a cambiare e a passare dalle valvole al librido. Io credo che l'appassionato di valvole continuerà a essere e a rimanere appassionato di valvole, punto. A chi è indirizzata questa macchina allora? Secondo me è indirizzata a quelli che stanno utilizzando un amplificatore a stato solido, che hanno dei diffusori adatti ad un amplificatore a stato solido, ma che hanno letto magari da anni le meraviglie delle amplificazioni a valvole. Allora, vendere sia l'amplificatore che i diffusori per comprare dei diffusori ad alta efficienza, specifici per le valvole, magari è qualcosa di troppo oneroso. Qui trovano una risposta, perché effettivamente questo amplificatore suona come un valvolare, ha tutte le caratteristiche soniche del valvolare. Tuttavia è in grado di far suonare ad alto livello con il grip tipico dell'amplificatore a stato solido. Non so dire se tutti i diffusori, sicuramente quelli che noi gli abbiamo abbinato durante questa prova di ascolto, li ha fatti letteralmente volare. E quindi, accidenti, gran bel risultato. Non trovi? Sì, ci ritrovo il suono tipico del MOSFET e in particolare questo suono io l'avevo sentito, anche se un po' meno energico, nel Tektron Volcano. Probabilmente perché è proprio la cifra stilistica di questi semiconduttori che trovo tra l'altro veramente eccellenti. Perché riescono ad essere energici, ritmici, molto veloci, ma allo stesso tempo mantenere grazia e dolcezza che molto spesso con i semiconduttori standard non c'è. Perché soprattutto nei picchi molto ingombranti, passatemi il termine, il semiconduttore se non è inserito all'interno di un amplificatore particolarmente costoso tende a indurirsi un po' come suono. Questo invece no, questo invece ha la grazia tipica di un amplificatore a valvole, ma se ci senti, e ci abbiamo sentito Sappers Redi, ci stiamo sentendo adesso tanti altri prodotti della musica rock che ci appassionano, con grandissima soddisfazione. Allo stesso tempo altre tracce, musica classica, voce femminile, hanno la classica dolcezza dell'amplificatore valvolare, ma l'energia soprattutto in gamma bassa e quindi nella parte più profonda dello spettro, che è tipica invece di un amplificatore a semiconduttori. Tutto questo Giulio, non ce lo dimentichiamo, con 7.435 di listino e circa 6.003 di street price. Quindi ci stiamo portando a casa un amplificatore, passatemi il termine, universale, con una somma tutto sommato non banale, ci mancherebbe, perché sennò poi dicono che noi siamo snob e che è solo l'i-fi di un certo tipo, però è anche vero che certi risultati te li porti a casa facendo un certo tipo di investimento. Sì, e scusami, ti dirò che, lo abbiamo detto in apertura di video, arrivare a potenze di questo genere con un amplificatore tutto valvolare sarebbe inavvicinabile per quella cifra lì. Un amplificatore a stato solido probabilmente ha quella cifra lì, te lo devi andare a cercare con attenzione, perché non è detto che dal punto di vista della, come posso dire, affinatezza timbrica, arrivi al livello di questo prima punto. Esatto. C'è una cosa che mi ha colpito durante gli ascolti fatti in questi giorni, che sono stati fatti utilizzando lo streamer della Lindeman, il Music Book, che ha una caratteristica, cioè tutti i segnali vengono convertiti in DSD. Poi c'è, sull'applicazione, la possibilità di togliere questa caratteristica e mantenere tutto in PCM, tranne il DSD, quando è DSD nativo. Con molte amplificazioni, questo togli e metti da DSD a PCM era a manapena percepibile. Con questo Prima Luna, questa piccola differenziazione, l'ho percepita in maniera molto netta. Quindi questo per dire cosa? Che questo è un amplificatore molto rivelatore. È in grado di valorizzare le caratteristiche della sorgente che gli sta a monte. Poi certo, non ci si può aspettare la prestazione di un amplificatore a valvole con tanti tubi da 40-50 mila euro, perché poi 30 mila euro, perché parliamo di quello, che però poi abbiamo già detto porta tante controindicazioni dal calore, al costo per comprarlo, al costo per sostituire i tubi. Però, dal punto di vista delle prestazioni, gli si avvicina davvero tanto, con tutti quegli enormi vantaggi che ti dà un'amplificazione a stato solido. Quindi, dal punto di vista del lavoro che la Prima Luna ha fatto, tanto di cappello, veramente tanto di cappello, perché è un prodotto che sinceramente io mi comprerei. Allora, io lo dico anche io, me lo terrei volentieri a casa questo prodotto, e lo dico apertamente. Ero partito scettico perché mi veniva un po' da dire, ma come un'azienda di tradizione consolidata, come la Prima Luna, che è sempre fatto, fa soltanto valvolari, e che cosa fa? Va a inseguire la moda dell'ibrido? Insomma, la cosa francamente non mi convinceva, ma mi sono veramente dovuto riprendere. E poi, tra l'altro, bravo Van den Dungen, perché ci vuole coraggio. Non è facile, quando per 18 anni, credo che abbia Prima Luna, da quasi 20 anni, fai solo amplificatori a valvole dall'eccellente rapporto qualità-prezzo, e improvvisamente ti metti in testa di fare una cosa diversa. È un investimento che fai, è un investimento sotto tutti i punti di vista, e quindi ci vuole un certo coraggio, coraggio che va premiato, perché il prodotto effettivamente è un prodotto veramente, veramente bello, veramente eccellente, versatile. Versatile, che dà tutti i vantaggi delle valvole, ma non gli svantaggi. Che cosa dire di più, Giulio? Cosa dire di più? Cosa dire di più? Sarei stato curioso, magari, di fare un tube rolling con delle 12AO7 di caratteristiche diverse? Forse poteva essere interessante, però vabbè, non abbiamo avuto modo di farlo, non ne avevamo a disposizione. Ecco, poi soprattutto sulle valvole di ingresso, quelle che sono messe sugli ingressi, perché le altre due che sono in parallelo, secondo me le differenze probabilmente si sentono meno. A questo proposito bisogna citare un passaggio del manuale che dice, noi di prima luna siamo d'accordo a divertirsi con il tube rolling, però A, tenete conto che queste che sono montate a bordo sono le valvole selezionate e di ottima qualità, B, ogni volta che fate stacca e attacca, l'amplificatore dovrebbe restare spento per almeno 5 minuti, se non lo fate, all'amplificatore non gli fate un gran servizio. Esatto. E dopodiché, ultima raccomandazione, togli e metti, ma il povero zoccolo che contiene la valvola, pure quello dopo un po' si usura. Eh certo. Quindi loro dicono fatelo, se la cosa vi incuriosisce, ma fatelo con una certa attenzione e cura. Allora, abbiamo finito? Sì, io direi che abbiamo finito, grazie a Primaluna, grazie a LP Audio, l'importatore italiano che ci ha permesso di realizzare questa prova. Grazie a Van den Dungen, quindi. Assolutamente sì. Subscribe, campanella, seguiteci sempre di più. Se siete arrivati fino a qua ci meritiamo, chi non è iscritto si iscrive. Iscrive e fa clic. Vi salutiamo, ciao. Grazie a tutti.